Da questa mattina Monsignor Giovanni D'Ercole non è più l'arcivescovo di Ascoli Piceno, è stato lo stesso prelato a presentare le sue dimissioni nonostante non abbia ancora raggiunto i limiti di età previsti per il pensionamento. La decisione sarebbe stata motivata dalla necessità di voler trascorrere un periodo all'interno di un monastero per pregare intensamente e trovare nuovi percorsi per servire la Chiesa, una decisione che sembrerebbe ricalcare quella già fatta come esempio di Benedetto XVI. Al posto di Monsignor D'Ercole arriva a gestire la diocesi come amministratore apostolico Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Rieti.